Francesca Tocca non ha trattenuto le lacrime. La ballerina ha fatto una lezione insieme a Giulia Pausselli a una delle nuove cantanti della scuola, Aisha. Era una lezione di staging, in cui i ballerini si mettono a disposizione dei cantanti per dare loro qualche dritta su come tenere il palco ed essere sciolti. Aisha ha già fatto una lezione con Elena D'Amario e ha subito dimostrato di avere un buonissimo ritmo. La giovane allieva non ha nascosto di ballare molto nella sua cameretta, ma al di fuori di questa le è sempre risultato difficile lasciarsi andare a causa di alcune insicurezze che ha. Maria De Filippi si è già accorta delle insicurezze di Aisha ed è decisa nell'aiutarla a superarle. Come ha fatto anche con Nicole nei giorni scorsi, per esempio. Quindi si è collegata con l'aula della lezione e ha spinto Aisha a togliersi la felpa per ballare più liberamente, l'allieva ha preferito di no, perché sotto aveva un top e non era a suo agio. Francesca Tocca ha spiegato ad Aisha che avrebbe dovuto e potuto ballare liberamente, senza timore di un giudizio perché non erano lì per quello. Anche Giulia Pauselli le ha detto di sentirsi come a un pigiama party con le amiche. Dopo i primi momenti di ballo, in cui Aisha si è lasciata andare e ha dimostrato anche oggi di avere ritmo e movimento, Francesca si è complimentata con lei ma ha notato che non era ancora totalmente libera. Anche la Tocca le ha suggerito di togliere la felpa, perché sarebbe stato un passo importante. Aisha si è rifiutata anche stavolta, dicendo che per lei era come uno scudo. La Tocca si è lasciata andare. Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell'ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare. Anche Francesca Tocca ha sofferto di insicurezze in passato, questo si intuisce dalle sue parole. A questo punto è intervenuta di nuovo Maria per spiegare proprio questo ad Aisha. Nonostante Francesca sia bellissima e con un fisico praticamente perfetto, ciò non vuol dire che non abbia anche lei delle insicurezze. La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico perfetto. Però Francesca ha avuto le stesse insicurezze che hai avuto tu, ha detto la conduttrice. Sentendo queste parole, Francesca ha pianto ma dando le spalle alle telecamere. Si è girata, poi quando ha asciugato gli occhi si è voltata di nuovo verso Aisha e verso le telecamere. Anche Aisha si è commossa mentre Maria continuava a ripetere che le insicurezze appartengono a tutti. La giovane allieva alla fine ha detto di essere molto contenta, non pensava che sarebbe riuscita a ballare davanti a delle persone che lo fanno per lavoro. Maria le è venuta incontro sulla felpa, le ha fatto portare una maglia a maniche lunghe e Aisha l'ha indossata, togliendo la felpa. Maria ha chiesto a Francesca come stesse e la professionista si è scusata per le lacrime, ma non serviva a scusarsi. La De Filippi le ha risposto così, era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei.